Con Beretta, eccolo qui. Contrasto aereo e poi Scavone che cade a terra e immediatamente arrivano i giocatori anche dell'Ascola e non solo del Lecce a richiamare subito staff medico, che tra l'altro senza nemmeno chiedere il permesso all'arbitro di entrato in campo. E' il secondo impatto, perché qui riceve un colpo del tutto involontario beninteso con Beretta, la sensazione che abbia già perso i sensi. Grazie. Grazie.